Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Eccoci in un nuovo video estivo volante, molto richiesto questa volta dai miei amici via Facebook o telefonicamente. Da circa 6 mesi, come avete visto, ho pesantemente messo alla prova il mio nuovo MacBook Pro M1 che ha soppiantato completamente il mio vecchio Mac Pro in studio. La configurazione è molto basic, 16 giga di RAM, 1 terabyte di hard disk interno, rappresentano la main machine in studio a cui ho collegato tutto il resto appunto dello studio. Avevo pensato di acquistarlo come semplice portatile per poter gestire in viaggio o fuori dallo studio le pesanti sessioni di mix e arrangiamento su cui lavoro costantemente, ma una volta inserito qui in studio si è rivelato più potente e performante di quanto mi aspettassi. L'idea iniziale infatti era quella di poterlo utilizzare mentre attendevo l'arrivo del Mac Mini M1 Pro o Ultra, che era in una lunghissima lista di attesa prevista consegna per il prossimo settembre-ottobre. Dopo averlo però installato e stressato a dovere mi sono accorto di essere in grado di gestire tutto il lavoro dello studio ed anche di più senza sentire la necessità di una macchina più potente. In questo video risponderò alle diverse domande più frequenti che mi sono state fatte via Facebook in relazione alla mia nuova configurazione, sperando di non dimenticare nessuno. Premetto e tengo a precisare che questo video non è sponsorizzato in alcun modo da nessuno, niente sconti, niente NFR, niente di niente, nessun marchio che citerò mi paga o mi ha pagato in passato. Come sapete ormai da tempo utilizzo questo canale ed il mio tempo per parlare solo di cose che realmente utilizzo in studio e nel lavoro di tutti i giorni. Ciò che mi ripaga infatti è la fiducia che mi accordate affidandomi i mix e i mastering dei vostri progetti. Ho già dedicato un video al nuovo Mac 1, lo trovate sul canale, ma ero titubante riguardo l'uso di soli 16GB assolutamente inutili sui vecchi Mac Intel. Morale della favola ho cancellato l'ordine del Mac Mini in attesa magari di un Mac Pro M2 Ultra di futura uscita. E' anche un po' poco impressionato dalla differenza di potenza tra il processore M1 Pro e le versioni Max e Ultra che sono attualmente disponibili. Usando però solo il MacBook Pro ho dovuto pensare di acquistare tutta una serie di accessori in grado di controllare tutto l'hardware presente qui in studio, monitor compreso. In viaggio utilizzo soltanto una scheda audio e l'amplificatore cuffie Lotto che trovate recensito sempre sul canale e che gestisce in maniera incredibilmente ottimale le mie Audis LCDX o anche le HD 650. Partiamo dalla Dockstation. La prima cosa che mi occorreva era un hub, possibilmente Thunderbolt, per gestire quello che stava appunto all'interno del Mac Pro, quindi gli hard disk gli hard disk esterni, il monitor, i dispositivi USB tra cui tastiere e controller vari che vedete qui, nonché la scheda audio Thunderbolt a cui è collegato tutto l'outboard dello studio. Non ho voluto badare a spese per due semplici ragioni. La prima relativa all'affidabilità, visto che dovranno passare i dati di registrazione, di backup, alimentare i controller e la scheda audio senza perdere colpi, possibilmente mai, e la connettività, ossia tutto quello che potesse essere connesso soprattutto alla replica della Desi Chain Thunderbolt, la catena quindi, a cui sono collegati altri dispositivi. Nella Desi Chain sono infatti collegati un IC Box Thunderbolt, una scheda audio RME Fireface UFX Plus, sempre Thunderbolt, una scheda di acquisizione video Blackmagic e, attraverso l'utilizzo delle porte USB 3.1, posso ospitare altri due hub USB 3.1, a cui sono connesse appunto tutte le periferiche esterne, tra cui sintetizzatori, interfaccia MIDI, controllers e un secondo IC Box USB, questa volta per i backup settimanali. Oltre questo, una garanzia di super compatibilità con l'alimentazione del MacBook Pro, per evitare di distruggere la batteria prima del tempo. La scelta, dopo varie ricerche, è caduta su OWC. OWC, per chi non la conosce, è forse il miglior produttore per hardware dedicato al Mac da decenni. Utilizzo i loro prodotti da 20 anni circa e non si sono mai rotti. Si trovano nelle loro scatole in garage a fare compagnia ai vecchi Mac G3 e G4. Il sito è raggiungibile all'indirizzo che trovate sotto in descrizione, comunque da OWC.Digital.com, oppure la sezione dedicata agli aggiornamenti del Mac, che vedete sullo sfondo, che è eshop.macsales.com. I due siti vendono sostanzialmente le stesse cose, ma su Mac Sales troviamo anche sezioni dedicate proprio all'aggiornamento delle vecchie macchine Apple. Nella sezione Thunderbolt, che è quella che analizzeremo, troviamo diversi prodotti e a me serviva un dock con tante connessioni. Quindi l'opzione migliore era l'OWC Thunderbolt Dock o WC Thunderbolt Dock Pro. Il costo varia dai 329 dollari ai 399 dollari. Questo è quello che io ho speso all'epoca. Non so adesso se siano cresciuti come costi. Non sono prodotti assolutamente economici, ma pensati per supportare un tale carico di lavoro ed essere affidabili, soprattutto nella parte, come vi dicevo, relativa all'alimentazione del MacBook Pro. La versione dock pro possiede alcune caratteristiche non indispensabili, come la WSD card o un dissipatore che a me non servivano. Quindi ho optato per la versione dock standard. In questo momento maggiorata di 96 Watt rispetto a quella da 85 Watt che era il modello precedente. Ho acquistato l'OWC Thunderbolt Dock quindi con queste caratteristiche. Un ingresso e uscita analogica, quattro porte Thunderbolt 4 con desi chain indipendenti da 40 gigabit al secondo, tre porte USB 3 da 10 gigabit, una porta USB 2 e uno slot SD card che col MacBook Pro è sostanzialmente inutile. Però possiamo utilizzarlo come micro backup di emergenza inserendo appunto un SD molto capiente. Le porte Thunderbolt possono essere utilizzate anche come uscite video per aggiungere fino a quattro monitor esterni al mio MacBook Pro M1. La porta Thunderbolt anteriore è quindi collegata al MacBook alimentandolo ed è in grado di accendere il computer quando il dock appunto riceve l'alimentazione. Esistono prodotti più economici sempre OWC con meno porte ma non vi consiglio assolutamente prodotti simili esteticamente presi su Aliexpress. Oltre a non essere ovviamente Thunderbolt non garantiscono una corretta alimentazione e rischiate seriamente di danneggiare le apparecchiature che vi collegate. Spendere un po' di più ora quindi per non spendere dopo. Alle porte Thunderbolt in questa interfaccia ho collegato quindi la scheda audio RME, la scheda video Blackmagic e un IC Box ossia un box esterno in grado di contenere hard disk esterni possibilmente SSD che non subissero quindi il collo di bottiglia della connessione USB. Avevo come vedremo necessità di disporre di hard disk esterni su cui lavorare direttamente anche in recording, in mix o anche per salvare i video come quelli che uso qui sul mio canale. Per questo ho continuato a puntare su OWC acquistando il loro Thunder Bay 4 Mini con capacità di gestione fino a 16 terabyte con ovviamente connessione Thunderbolt. Ovviamente qualsiasi prodotto Thunderbolt grazie alle sue caratteristiche costa molto di più della sua controparte USB. In questo bay ho inserito infatti i 4 SSD che avevo prima all'interno del Mac Pro quindi li ho riciclati e che erano installati su uno slot PCI. Ho quindi inserito 3 SSD da 2 terabyte l'uno ed un hard disk meccanico sempre da due e mezzo questa volta da 5 terabyte per il backup temporaneo dei file di lavoro. In questo modo le copie interne dei file e le fasi di lavorazione non subiscono come dicevo colli di bottiglia viaggiando alla velocità di 40 gigabit al secondo superiore quindi a quella dell'hard disk come se fossero inseriti all'interno del computer. È un ottimo sistema anche per stoccare le librerie audio. Un domani sarà semplice quindi poi sostituire il macbook pro e lasciare il dock e bay in questa configurazione in maniera semplice e rapida. Il thunder bay è molto silenzioso e la ventola non infastidisce il lavoro in studio con soli 32 db di noise. Inoltre il sistema include la possibilità di gestire dei backup ride una porta thunderbolt supplementare a cui connettere un ulteriore desi chain thunderbolt e quindi altre periferiche in catena. Il prezzo che ho speso per questo thunder bay era di circa 249 dollari. I cavi thunderbolt sono inclusi in entrambi i dispositivi e questo è un ottimo risparmio. Per collegare tutte le periferiche usb come ho accennato ho scelto degli hub alimentati piccoli ma professionali testati per anni senza problemi in grado di ospitare non solo le periferiche usb ma anche gli hard disk usb esterni le chiavi dei software le chiavi dati eccetera eccetera. Per questa situazione ho scelto quindi zamus 7 7 porte usb 3.0 costo 39 euro come dicevo non è iper economico ma si trova su amazon. A questi due hub quindi ho collegato il controller native instrument control master 49 il presonus fader port 16 presonus atom sq presonus revelator il machine 3 di native instruments il bearing rd 8 il bearing model d l'interfaccia midi motu 3 hard disk esterni portatili l'icbox con 5 hard disk da 3 e mezzo il terramaster d 5 300 c usb 3.1 ha una velocità di 5 gigabit al secondo che uso soltanto per poco tempo appunto per i backup settimanali di tutti i file di lavoro anche perché contiene un ride di 4 terabyte interno e fa un discreto rumore la ventola quindi è necessario considerarlo un sistema temporaneo quindi viene acceso fatto il backup e poi spento la telecamera che state vedendo è sempre collegata ad uno di questi hub ed è la elgato facecam full hd webcam che uso appunto per lo streaming un doc esterno è stato poi aggiunto per gli hard disk volanti adatto a caricare appunto gli hard disk quelli senza la custodia quelli che si infilano e poi troviamo sempre su questi hub le chiavette i lock una lampada usb che utilizzo ogni tanto il convertitore preamplificatore spl phonitor one per le cuffie un cd drive che ogni tanto utilizzo per fare dei master o per recuperare da cd e lo scanner canon che utilizzo poi appunto per scannerizzare i documenti comunque parecchie cose collegate a questi due hub come monitor esterno qualcuno l'ha già visto su facebook utilizzo ho scelto un samsung da gaming da 49 pollici che si chiama appunto samsung gaming crg 9 che viene utilizzato attraverso l'hdmi presente sul macbook e mette inoltre a disposizione altre tre porte usb 3 ma non sono in questo momento in utilizzo l'ho settato in modalità 60 hertz per consumare appunto soltanto 40 watt il mio consiglio visto che si tratta di eccellenti prodotti e quello di risparmiare un po acquistandoli usati su ebay o restituiti magari su amazon o sempre su amazon come ho fatto per il monitor acquistarlo a rate e spalmare la spesa su più mesi successivi il sistema così montato non è certamente economico ma rispecchia la qualità a cui ho sempre fatto fede per me stesso e per i clienti dello studio in questa configurazione tutto è estremamente silenzioso e non ho grandissima dispersione di calore come invece avveniva con il vecchio mac pro infatti il consumo effettivo del macbook pro m1 pro e del nuovo monitor hanno abbassato in kilowatt circa il 35 per cento della bolletta rispetto alle bollette precedenti riferite allo stesso periodo senza sacrificare potenza di calcolo in alcun modo ed in questo periodo di crisi energetica non è male per chi desidera passare su m1 vi rimando al video precedente dove spiegavo cosa considerare in relazione alla gestione dei software vi ricordo che i chip apple silico m1 pro sono superiori alla serie m1 standard che pecca ancora di qualche bug quindi se siete in procinto di spendere un po meno approfittate delle nuove macchine equipaggiate magari con il chip m2 ma non aspettatevi le prestazioni della serie pro o ultra ripeto come ho fatto nel video precedente tutti i software che utilizzano sono attualmente in stato nativo m1 quindi girano performando al 20 per cento in più rispetto alla stessa configurazione in modalità rosetta nonostante tutto riesco ad aprire e gestire progetti con più di 180 tracce e soltanto 16 gigabyte di ram e senza mai portare il processore oltre l'80 per cento di stress più che sufficiente per il mio lavoro di arrangiatore in fase di mix e ovviamente anche in fase di mastering tutto questo era impensabile sul vecchio mac pro 12 corx ion sia sul vecchio macbook pro intel i7 decima generazione tanto meno su un inove che soffriva anche di thermal throttling qualora vi venisse il dubbio questo video lo ripeto non è sponsorizzato in alcun modo non ho ricevuto nulla ne ho avuto sconti non entro e non entrerò assolutamente nel discorso costi prestazioni non ho voglia di discutere con mio cugino fa la stessa cosa con un pc da 1000 euro non amo questo genere di discussioni allo stato attuale non esiste alcun tipo di computer portatile in grado di fare questo in questo modo quindi evitiamo a priori ogni sorta di discussione si può spendere la stessa cifra ovviamente costruendo un pc ultra potente magari anche più potente ma non garantirà consumo dissipazione e portabilità come in questo caso chi desidera prendere spunto da questo video è ben accetto gli accessori nominati funzionano benissimo anche sotto intel vi ricordo che il protocollo thunderbolt è supportato molto bene da intel non garantisco quindi per gli altri processori o altri competitors se vi è piaciuto l'argomento cliccate sotto e condividete il video sui vostri canali social se avete dubbi e domande e desiderate farmi testare altri prodotti indicatelo sotto sarò felice di provarli appena possibile ciao a presto spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito pro audio learning punto com affronteremo i vostri mix insieme li finalizzeremo nella fase di mastering continuate a seguirmi su facebook youtube music of non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale patreon che trovate in descrizione se vi è piaciuto cliccate e subscribe e attivate la campanella per il momento è tutto ciao a presto